La chimera uomo scimmia è realtà. Un gruppo di ricercatori cinesi e americani ha inserito cellule staminali umane in embrioni di scimmia e sono stati in grado di farli crescere per 20 giorni, periodo significativo per questo tipo di esperimenti. Lo studio, nonostante le implicazioni etiche, potrebbe portare alla scoperta di nuovi dettagli sullo sviluppo biologico. Non solo, stando a quanto riferito dagli studiosi sulla rivista Cell, gli embrioni chimera potrebbero avere implicazioni per studiare le malattie. Poiché non siamo in grado di condurre determinati tipi di esperimenti sugli esseri umani, è essenziale disporre di modelli migliori per studiare e comprendere in modo più accurato la biologia e le malattie umane. Afferma uno degli autori, Jean-Carlos Itzpiswa Belmonte, professore del G-Expression Laboratory presso il Sork Institute for Biological Sciences. Nel nuovo studio, sei giorni dopo la creazione degli embrioni di scimmia, i ricercatori hanno inserito in ciascuno di essi 25 cellule staminali pluripotenti umane, che possono differenziarsi in tessuti sia embrionali che extraembrionali. Dopo un solo giorno, gli scienziati hanno rilevato la presenza di cellule umane in 132 embrioni. Dopo dieci giorni, 103 degli embrioni chimerici erano ancora in via di sviluppo. Ma la sopravvivenza di queste chimere ha iniziato a diminuire al diciannovesimo giorno, quando solo tre embrioni erano ancora vivi. Pochi vantaggi e numerosi interrogativi, avverte Giuseppe Novelli, genetista dell'Università Torvergata di Roma. Non solo di natura esquisitamente tecnica e scientifica, ma soprattutto di tipo etico e sociale. Introdurre staminali embrionali umane nella blastocisti di un macaco è fortemente vietato da tutte le linee guida di bioetica esistente. Le cellule chimeriche embrionali sono potenzialmente in grado di generare embrioni chimera, quindi feti, di cui non sappiamo nulla. Grazie a tutti!